Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La nuova stagione di Uomini e Donne, che ha debuttato il 28 agosto 2024, ha già fatto parlare di sé per i colpi di scena. In particolare, il ritorno di Mario Cusitore e Armando Incarnato ha suscitato grande curiosità. Secondo indiscrezioni, i due cavalieri avrebbero chiesto espressamente di sedersi nel parterre del trono over. Mario e Armando sono stati richiamati dopo aver manifestato il desiderio di tornare nel programma. Questo fatto ha sollevato interrogativi sulla credibilità del programma e degli autori, come ha sottolineato l'esperto di gossip Alessandro Rosica. Secondo Rosica, i due sono tornati a Uomini e Donne proprio perché hanno espresso il desiderio di partecipare nuovamente al programma. Tuttavia, secondo Lorenzo Pugnaloni, mentre Incarnato fa parte del trono over da tempo, Cusitore è stato richiamato per confrontarsi con Ida Platano. Il confronto non è avvenuto a causa dell'assenza della ex tronista per motivi di salute. L'inizio della nuova stagione di Uomini e Donne è previsto per il 9 settembre e si prospettano nuovi sviluppi e colpi di scena. Resta da vedere cosa riserverà il programma con il ritorno di Mario e Armando e quali saranno le dinamiche.